buongiorno a tutti allora qualche giorno fa avevo fatto un video riguardante il mio segno zodiacale cioè avevo fatto il video in cui dicevo che ero pesce ascendente vergine e facevo un resoconto del carattere che verrebbe fuori unendo questi due segni che francamente sono un attimino uno apposta all'altro perché appunto hanno caratteristiche un attimino all'opposto e ho detto se qualcuno ha piacere di sapere qual era il suo ascendente e voleva appunto che dicessi guardate tu hai questo segno qua più l'ascendente sei così naturalmente non avrei fatto il nome per correttezza però gli avrei fatto un video in cui magari scoprivo perché magari uno mi scrive guarda io sono nato così così però non so come trovare l'ascendente me lo scopri tu e ho scoperto che inizialmente lui aveva un ascendente in acquario però ho visto che avevano fatto la richiesta anche della città di nascita inserendo la città di nascita non era più acquario ma diventava capricorno quindi il segno antecedente quindi se fosse nato magari in un'altra città magari era giusto quello lì o magari era quello successivo diventava anziché acquario pesce io ho ricontrollato per sicurezza inserendo la mia città e devo dire che è giusto pesce ascendente verge comunque in questo caso noi abbiamo un capricorno ascendente capricorno quindi bando alle ciance vediamo gli capricorni ascendenti capricorno quindi cornuti due volte tra virgolette simpaticamente quindi animale con le corna capricorno ma ce ne sono tanti c'è la riete c'è appunto il capricorno no direi c'è ariete capricorno basta non ce ne sono altri perché poi c'è cancro leone eccetera eccetera ma non c'è niente capricorno ascendente capricorno andiamo a leggere com'è il carattere di un capricorno ascendente capricorno questa combinazione segno ascendente rivela una persona molto forte riflessiva tenace solitaria e razionale un pur purri diciamo potrebbe avere un carattere un po ombroso schivo e probabilmente anche se può sembrare socievole in realtà si apre davvero solo dopo aver ponderato a lungo prima di concedere la sua fiducia vuole essere sicuro che sia ben riposta ha un grande senso della realtà è lungimirante concreto e può sembrare pessimista a volte lo è davvero a volte sta solo valutando obiettivamente le circostanze tranne importanti indicazioni contrarie del resto del tema natale gli manca il guizzo della fantasia dell'imprevisto della creatività d'altra parte in famiglia con gli amici con il partner è lui il punto di riferimento solido saggio e ponderato in amore ha una passionalità poco appariscente ma è un vulcano la definizione che indica la sua sensualità è ghiaccio bollente come cantava tanti anni fa qualora la persona fosse una ragazza ma potrebbe anche essere un ragazzo un ghiaccio bollente prima di concedersi realmente la sua fiducia prima di concedere realmente la sua fiducia però preferisce fermarsi a lungo riflettere essere sicuro di quello che prova e di chi ha di fronte ha un grande senso di responsabilità e se promette qualcosa deve essere più che certo che manterrà la parola amore vita privata a parte questa combinazione segno ascendente offre il meglio nella professione è ambizioso si sente tagliato per il successo ed è disposto a qualsiasi sacrificio per raggiungere il suo obiettivo generalmente preferisce lavorare da solo secondo i suoi tempi e le sue modalità ma se la situazione lo richiede è disposto ad adattarsi niente è impossibile per la sua inossidabile forza di volontà quindi è una specie di volli sempre volli fortissimamente volli chissà se era capricorno anche lui quello colui che diceva voli sempre volli eccetera eccetera detto questo io vi saluto vi ringrazio spero di aver fatto contento o contenta la persona che mi ha chiesto il favore che naturalmente io non dirò perché gli ho detto guarda lo faccio però non dico per correttezza chi sei quindi io la promessa l'ho mantenuta mi auguro che qualcun altro mi chieda la stessa cosa mi dica io sono nata o nata il tal giorno alla tal ora eccetera eccetera e poi gli faccio io il video su misura dicendo tutto quanto purtroppo quel video l'hanno visto in 14 vedremo se questo lo vedono in 15 d'altronde finché anche solo una persona guarda i miei video io continuerò a farli il giorno che nessuno guarderà più i miei video smetterò e me ne farò una ragione detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao